La nostra vita è la somma di decisioni. Ciò che lei ha fatto ha portato a questo. Quando il bisogno di certezza è assoluto, quando farcela sembra impossibile, la missione ricade su di lui se deciderà di accettarla. Per ogni vita che hai cercato di salvare, ne hai rischiate milioni di altre. E ora il destino di ogni essere umano sulla Terra è nelle tue mani. È questo lo schema, vero? Lei rifiuta di sacrificare coloro che ha più a cuore. Siamo sempre stati dalla parte giusta, fratello. Io non ho rimpianti. Non averne tu. Devi fidarti di me. Un'ultima volta.